I CINDITEL Sappiamo che l'area è piena di scorte, ma anche di uniformi. Ci copriremo a vicenda. Ancolo, stanza. Sì, sì, sì. Aspetta un attimo, il sistema U Menni Aspetta! Possiamo andare! Ho finito! Andiamo! Sì! Sì! Lascia! Ho piazzato la bomba! Attenzione! Si va un po' di fu- Uno in meno! Un po' di fu- Un po' di fu- Un po' di fu- Un secondo! Ci sono! Aspetta! Ho finito! Andiamo! Ho finito! Andiamo! Coprimi le spalle! Ok? Ci siamo! Pronti? Una merda in meno! Un turista di meno! Un turista di meno! Un ruish! Un rumore! Grazie a tutti. Grazie a tutti. E un altro cadavere. Grazie a tutti. Un uniforme di meno. E un altro cadavere. Oh cavolo, grazie. Ho finito. Andiamo. Su, dai, coprimi. Possiamo andare. Oh cavolo, grazie. No, merda. Non sopravviveremo, vero? No. Oh cavolo. Oh cavolo. Oh cavolo. Oh cavolo. Coprimi. Ok, ci siamo, pronti? Oh cavolo. Ok. 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 Grazie. 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 Tu, tu, turista. Uniforme a terra. Mi hanno preso. Mi hanno preso. Oh, merda. Datemene altri. E uno. Possiamo andare. Uniforme. 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 C'è un uniforme laggiù. Merce gli è andata. No Non ci vedo No Uno a terra Le umili sono fuori combattimento Vediamo se ci ritrovano ancora